Lo sao o non lo sao che noi abbiamo il nostro cacao meravigliao E leao, e leao, la 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 E vai! Amici e amiche, buonasera! Anzi, buonanotte ragazzuoli belli e buongiorno se mi vede il giorno dopo Ragazzuoli belli, ore 23 e 36 L'ho rifatta, rimaneggiata a modo mio Eh sì ragazzi, perché la nostra curva ha cantato questo cor bellissimo in onore del nostro Rafa Leao che ragazzi, come al solito è stato determinante Ormai Leao sta diventando sempre più determinante per il nostro Milan A proposito, visto che la partita è appena finita, le ripeto sono le 23 e 36 La partita è finita da neanche due minuti Ho visto qualcosa di interessante in Robach Il nostro attaccante della primavera svedese Robach Attenzione ragazzi, ho visto qualcosa di interessante in questo ragazzo qua È difficile, adesso è presto per dire se è un attaccante di peso Perché, insomma ragazzi Però, eh, questo ragazzo qui mi ha fatto vedere Ha fatto dei movimenti, ha fatto poche cose Negli ultimi quattro minuti che è entrato Però, insomma, il ragazzo non mi è dispiaciuto E non mi è dispiaciuto Amici e amiche, lo ripeto Buonanotte e buongiorno Allora, come la va? Come la va? Scrivetemi come la va sotto il video Come la va? Cosa avete pensato? Allora, ragazzuoli e ragazzuole belle Ci sarebbero parecchie considerazioni da fare per questa partita Adesso vedo di snocciolare nel limite del possibile Quello che pian piano mi viene in mente di cui parlare Allora, vi devo dire subito una cosa La partita è stata un completo disastro Anzi, per tutto il primo tempo e buona parte del secondo tempo Un disastro Una partita noiosa Senza, diciamo, stimoli dei nostri giocatori sotto la porta avversaria del Genoa Un disastro Sfido chiunque di voi a non dirmi la verità Dovete essere sinceri La partita è stata un completo disastro Fino al settantesimo Nel secondo tempo Fino al settantesimo È stato un disastro commensurato Poi è successa questa cosa Che praticamente Il nostro amato Milan Ha trovato questo gol di rapina Ma soprattutto di esperienza di Oliver Giroud di testa Con questo assist no look No look di Teo Hernandez Perché Teo Hernandez non ha neanche guardato Ha tirato l'assist Bello secco E Giroud è insaccata di testa Al settantatresimo È stato uno spettacolo, ragazzi Mi ha fatto godere come un pazzo Però fino a quel momento Fino al settantesimo La partita era bloccata Era noiosa Meritato vantaggio del Genoa Questo giocatore difensore del Genoa Ostigard Come si chiama Adesso penso di averlo pronunciato bene o male Adesso non lo so Comunque questo Ostigard è un gran giocatore Del 99, ragazzi Ha fatto gol Bravo di testa Ha tenuto botta Questo è un bel giocatore Questo Ostigard è un bel giocatore E niente, ragazzi Ne ho pensate di tutti i colori All'inizio della partita Vi dico la verità Ho pensato che quasi quasi Il nostro Milan Era un po' svogliato Nel volerla portare a casa Però non ci volevo credere a questa cosa Poi ho pensato A un piccolo favore Nei confronti di Andri Shechenko Perché onestamente Andri Shechenko Lo sappiamo tutti Sarà licenziato Dalla proprietà americana 777 Lei come si chiama Del Genua E praticamente A mio modo di vedere Con Tassotti Shechenko qualcosa Ha iniziato a far vedere Proprio stasera Anzi Nell'ultima partita Anche di campionato Oltre che quella di stasera Non so Non mi voglio mettere Non voglio mettere becco Nelle squadre degli altri Però secondo me Cara proprietà americana Pensateci bene A licenziare Shechenko Perché di sicuro Lui stasera Era un po' amareggiato Perché non ha parlato Tutta la partita Non ha parlato Dalla Dalla sua area Dalla sua area Di competenza Shechenko come allenatore L'unico che ha parlato Stasera è stato Tassotti Basta L'unico Comunque Vabbè Faccio il migliore In bocca al lupo Shechenko Anche se verrà licenziato Ci mancherebbe Il nostro grande Andri È un mito La curva I nostri ragazzi La curva Gli hanno intonato Parecchi Parecchi cori A proposito Voglio fare un applauso Alla nostra curva Perché dall'inizio Alla fine Hanno intonato I cori Di incorreggiamento La nostra squadra Grandi ragazzi Grandi ragazzi La curva Stasera Stasera Stanotte Andranno a letto Spezzati Spezzati A Milano Comunque Stasera Fa freddo Anche qui Io sono alle porte Di Milano Fa freddo Proprio attaccato a Milano Ma vicino a Milano Fa freddo Insomma Fa un bel freddo Ci sono meno tre gradi Per cui Vi lascio intendere questo Ragazzi Per cui La partita Si è svegliata Da quando Oliver Giroux Ha fatto il gol Poi cosa è successo È successo Questo gol Non voluto Non si sa Del nostro magico Raffa Leao Che praticamente Voleva essere Una specie di assist Comunque Di tiro in mezzo All'area avversaria Del Genoa È riuscito a fare gol Nell'angolo opposto Cioè nell'angolo destro Del Genoa Raffa Leao Ma io non ho più parole Per definire Ma cosa ti devo definire Scusa E E poi Il bellissimo gol Del nostro Del nostro Alexis Che comunque No è stato Un bel gol Veramente Adesso tra le altre cose Scusate Ho la tv anche accesa Sto guardando Un attimino Gli highlights Della partita No è stata una partita Veramente A un certo punto Noiosa Cioè proprio noiosa Sfibrante Stancante Non si arrivava A una conclusione Siete Vengono Il gol di Leao È bellissimo No perché sto vedendo Il gol di Leao Lui ha fatto L'inchino Leao Ha fatto l'inchino Ma cosa ho fatto Dice Leao Cosa ho fatto E Vabbè Qui Alexis Sì Assist Di Tio Hernandez Alexis È stato Benissimo Non ha fatto Una buona partita Alexis Fino al gol Ma allora Faccio la mia considerazione Dovete credermi Le grandi squadre Fanno questi risultati Ragazzi Ma lo so che non mi credi Lo so che non mi credi Lo so che non mi credi Tu non mi credi Tu mi devi credere Devi prendere come esempio Me Il tuo Alex Scuola Le grandi squadre Fanno questi risultati 3 a 1 In questo modo Cioè praticamente Fai schifo Tutta la partita Poi negli ultimi minuti Della partita Risolvi la partita Tutti hanno fatto In Coppa Italia I tempi supplementari Tranne una partita Oggi il Napoli Un disastro Il Napoli Sberle a tutt'andare Della Fiorentina Ma un disastro 3 espulsioni Di qua di su Non l'ho vista La partita Ho visto solo gli highlights Ma un disastro Commensurabile Ieri sera La partita di Supercoppa Bonucci che tira lo schiaffo Al dipendente dell'Inter Ma Bonucci Ma non ti vergogni Ma Bonucci Ma ti devi vergognare 10.000 euro di multa Io ti avrei dato 100.000 euro di multa Vergognati Comunque un disastro Questa Coppa Italia Supplementare Di qui Di sud Est Allora adesso Uno delle squadre Che incontriamo È il prossimo vincitore Tra Lazio e Udinese Sicuramente Passerà la Lazio Penso Non so Però Facile che l'Udinese Fa il colpo Attenzione Non bisogna Poi degli ottavi I prossimi partiti Roma-Lecce Inter-Empoli Roma-Lecce Inter-Empoli Vabbè Non so perché Ma Potrebbe essere Una finale Derby Di Milano Vabbè Vediamo Allora Comunque sono sempre La prossima estate Di Bootman Lo ripeto Per la centesima volta Perché Bootman Ho la certezza Al cento per cento Vuole il Milan Punto Visto che Non si arriva Bootman Ma siamo sicuri Di dover Prendere Sto cavolo Di difensore No perché Prima della partita Il microfono di Canale 5 Paolo Maldini Capitan Maldini Ha detto queste parole Non è detto Che arrivino Dei giocatori Fino alla fine Del calcio Mercato Cioè Praticamente Paolo Maldini Ci arrivano Zero giocatori Queste Non sono parole A cui credo Ve lo dico sinceramente Perché A mio modo di vedere Mio personale E comunque Da quello che ho capito Il Milan Ha partito Con un intervento Con un'idea di intervento Per tre giocatori Però a questo punto Se non dovesse arrivare Il difensore Adesso vi spiego perché Io punterei Sicuramente Su un attaccante E comunque Un centrocampista in più Ragazzi Due devono arrivare Perché non puoi Tirare avanti Fino a maggio Poi adesso Con il discorso Della Coppa dell'Africa Che non si sa I nostri giocatori Quando torneranno A proposito Che sì E Benassersi Sono rasati la testa Appelati tutte e due Hanno fatto un voto Hanno fatto un voto Però ragazzi Il discorso È questo Cioè Allora Almeno un attaccante Di rincalzo Se succede un disastro Tra malati E tutto il resto E un centrocampista Però Il discorso difensore È questa la mia idea Ma perché Dobbiamo dare Gabbia In prestito Alla Sampdoria Perché Gabbia A mio modo di vedere Con stasera Ha fatto capire Che sta iniziando A ingranare E soprattutto Calulu Ragazzi Calulu Eccezionale Calulu Eccezionale E di fatti L'avete visto Ce l'ho messo anche In copertina Calulu Eccezionale Ragazzi Eccezionale Calulu E Gabbia Ma perché Allora Per me La coppia La coppia Sostitutiva Ma c'è già Ragazzi Calulu Calulu Mettetela Che cacchio Dobbiamo andare a sbattere La testa Con i somari Che ci sono in giro Prima considerazione Eh ragazzi Seconda considerazione Il centrocampo Allora Baccaio Co Qualche intervento Giusto L'ha fatto Ma tanti interventi Sbagliati Baccaio Co Deve ancora ingranare Ragazzi Fa delle cose buone E tante anche Sbagliate Abbiamo bisogno Come ho detto prima Il centrocampista E ci abbiamo bisogno Un rincalzo Di buona qualità Non dico eccessa Per il mercato Di gennaio Perché se non si può spendere Perché Si sta facendo Di tutto Per abbassare La perdita D'esercizio E arrivare Splendidi Per fare un gran Calcio mercato In estate Perché Per giocare Bene Nella Champions League Abbiamo bisogno Di una seconda squadra Capito? Do you understand? Do you ever understand? Avete capito? No Lo dico a quelli Che C'è C'è stato un pessimo A cui ti rispondo Solo adesso In video Tu sei un pessimo Lo dico solo a te Tu sei un pessimo Che mi hai scritto Sotto il video ieri Tu sei un pessimo Alex Voglio una risposta Da te Da te Come se È un'imposizione Che io devo rispondere Voglio una risposta Da te Tu mi devi spiegare Perché Elliot Non spende Perché tutti gli altri Sono indebitati Spendono e vincono qualcosa E noi con quei marcioni Di Elliot Non spendiamo niente Tu sei un somaro Che non hai capito nulla Elliot è al Milan Per fare un lavoro Far risplendere il Milan Lo sta già facendo Tenere i conti a bada Avere le firme Nello stadio E poi vendere Al numero uno Del numero uno Il Milan Tu non ci hai capito niente Tu sei un somaro Lo dico solo a te Che sei l'unico Che mi ha scritto Questa cosa qua Perché sei O un infiltrato Cioè non sei un milanista Non lo sei E se sei un milanista La cavessa Te è andata sulla luna Punto Però ritornando al discorso di prima Il centrocampista Terza considerazione Ragazzi Bisogna Io azzarderei A questo punto Provare questo Robach Perché Florenzi Mi è piaciuto un casino Ragazzi Florenzi Come sostituto Di Calabria Mi piace un casino Secondo me Florenzi È migliorato molto Ragazzi Però l'attacco Abbiamo bisogno Abbiamo bisogno Qualcuno Perché se non c'è Ibrahimovic Non c'è Quello Pellegri Un rottame Pellegri Vattene al Torino Subito E in fretta Grazie Queste sono le tre Considerazioni principali Ma ci tengo Particolarmente Sul Sul difensore Poi per il resto Ragazzi La grande squadra Ha fatto la differenza Sul finale Della partita Ha risolto la questione Una partita Bruttissima E la risolta Sul finale Le grandi squadre Fanno così Non è che le grandi squadre Necessariamente Si ammazzano I primi minuti A fare 50 gol E poi dopo Non giocano più La partita Amministrano la partita E poi portano a casa Il risultato Basta Il Milan È da una vita Da tantissimi anni Che non vince La Coppa Italia Non sto dicendo nulla Scongiuri Via E niente E niente ragazzi Poi c'è Poi c'è un'altra partita Da c'è un'altra partita Che pazienza Il saltimbanco Gli illusionisti I prestidigitatori No più che prestidigitatori I prestigiatori Con i piedi Ecco Adesso non so la parola Quale sia Non avere altri due rincalzi Due rinforzi Qui è un po' dura Però vedremo come andrà a finire Amici e amiche Vi mando un abbraccio È uno spettacolo sempre E chi non crede Che sarà uno spettacolo Vaccia Pairat O cambia squadra Forza Milan Sempre Comunque ovunque Ciao